Parola ad Affonso Vigiani che ci illustrerà il parco gara che daremo a tutti gli sportivi che parteciperanno alla gara polistica. Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco e ringrazio anche la votata Pizzicoli e sono qui a presentarvi il parco gara. Che è una bellissima sacca di multiuso, anche da palestra, anche per andare a mano. Però questa è mia? Grazie, grazie, grazie. Allora facciamo marketing. Questo è abuso di potere. No, assolutamente no, me l'avete regalata. All'interno della sacca possiamo trovare un bellissimo asciugamano, anche questo di multiuso. Questa è la novità. Un telo, asciugamano, questo va bene anche per la palestra, anche per il mare. Questo anche regaliamo al studio. Grazie, grazie, grazie. E poi abbiamo un prodotto per sportivi, una Powerhead, che ci può idratare dopo lo sforzo sportivo. Questa roba, io la devo correre, quindi... E qui, un bel pacco di pasta, di carboidrati, che anche loro ci fanno bene e ci vogliono, compresa le proteine. Sindero, oggi col suo. Grazie appunto. Oltretutto, se mi puoi passare, il pacco gara è previsto per la gara competitiva e la non competitiva di 10 km. C'è anche una camminata di 5 km, dove noi offriamo questo bellissimo marsupio running con la scritta di Atleti Capricea. L'uomo e donna. Almodico costo di 5 euro. Quindi, correte a iscrivervi e li aspettiamo tutti. I trofei.